È un progetto molto importante, è fondamentale espandere il prima possibile la cultura della sicurezza, quindi ai bambini. Con il lavoro che faccio purtroppo mi rendo conto che bastano veramente poche cose. Sono sempre in prima persona per poterle dare a chi ne ha bisogno, in questo caso ai nostri figli che sono il nostro futuro.